Continuiamo la nostra carrellata di esplorazioni con le funzionalità di il nuovo Photoshop CS6. Ci spostiamo sul testo perché? Perché fino a ieri Photoshop ragionava in maniera molto easy ma anche molto a sé stante per quanto riguarda la gestione del testo mentre per chi viene dal mondo di InDesign ha come ben sappiamo una gestione dei caratteri dei paragrafi è molto più dettagliata molto più modulare e nel senso proprio di ripetibile riapplicabile questa cosa entra anche nel mondo di Photoshop per cui nel nella gestione del testo testo che tra l'altro per darvi una chicca io adesso mi traccio un box semplicissimo vado sul menu type che è un altro delle novità che ci interessano per quanto riguarda Photoshop CS6 vedo la voce paste lorem ipsum che vuol dire copie lorem ipsum e mi trovo il mio simpatico testo segnaposto già bello che è piazzato dove mi serve senza andare a fare giri strani sempre più integrata questa funzionalità ce l'abbiamo anche in Fireworks abbiamo un'estensione per Dreamweaver e via dicendo e ovviamente per InDesign. Cancello e livello il discorso degli stili è molto molto importante perché mi consente di crearmi e qua ho un nuovo pannellino che riguarda specificatamente proprio gli stili di paragrafo che io mi sono già creato prima ma con le stesse identiche logiche che si utilizzano in InDesign per cui vado a selezionarmi un paragrafino che ho voluto formattare in una certa maniera e posso decidere di doppio cliccare sopra questo stile che mi sono creato ho a disposizione un'intera serie di opzioni che mi gestiscono dal font alle sue caratteristiche a tutte le tipiche caratteristiche dei font open type l'identazione la spaziatura la giustificazione e via dicendo io questo stile una volta applicato una volta creato posso applicarlo a tutti i paragrafi che vado a creare per cui posso anche decidere che questo stile questo paragrafo scusate debba cambiare completamente stile e quindi vado a applicargli un altro stile ancora che sono andato a crearmi separatamente inverto quindi gli aspetti e a quest'altro paragrafo quello nel box vado ad applicare un altro stile ancora quindi questo mi rende ancora più modulare più veloce più performante e semplice la gestione del testo in photoshop cs6 ovviamente non sono solo queste le novità ma piano piano le scopriremo tutte